Il Italian Language International Cultural Alliance, la nostra fondazione, INICA, non cambia la prospettiva. Prende atto del cambiamento dei tempi. Cioè, se noi pensiamo che abbiamo fatto una rivoluzione industriale che è durata 200 anni, nessuno si ricorda che al principio della rivoluzione industriale, che cosa è successo? È successo che un trattore sostituiva 50 contadini nei campi. Per cui, a un certo momento, ci siamo trovati con un eccesso di macchinari e con un tremendo eccesso di manodopera. Per cui, le conseguenze le conosciamo tutti, guerre mondiali. Oggi noi ci troviamo davanti a una trasformazione ancora più veloce, che non durerà forse 300 anni. Perché quella di Bill Gates è durata 20 anni, quella di Steve Jobs è durata 15, Zuckenberg si è subito agganciato, ora piano piano i miliardari sono ragazzi di 25-26 anni e noi, come italiani o come gruppo etnico italiano, non possiamo continuare a fare le parate, le riunioni con le bandierine. Cioè, da qualche parte dobbiamo agganciarci. Quindi, INICA non cambia la prospettiva. INICA prende atto di una rivoluzione in atto che non è stata creata da noi, ci agganciamo e cerchiamo di portare dentro le realtà di questo secolo.